Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo alla scoperta della storia della nostra città. L'anno 1944 fu chiaramente un anno particolarmente interessante sotto ogni punto di vista, tanto che Franco Torresi nei suoi volumi dedicò due sezioni al 1944 mentre a tutti gli altri anni ha dedicato una sola sezione. In questo primo episodio relativo al 1944 leggerò quelli che Franco Torresi mette nella prima pagina dell'anno come notizie veloci relative a vari periodi dell'anno in ordine ovviamente di mese. Poi passerò agli episodi più lunghi relativi sempre al 1944. Iniziamo con le brevi notizie. 18 gennaio. Con decreto prefettizio numero 94 viene disposta la requisizione dell'albergo Grande Italia ad uso del comando germanico. Il comune dovrà corrispondere alla proprietaria un indennizzo giornaliero di lire 600 e provvedere al pagamento di lire 6.000 una tantum quale rimborso del costo del carbone esistente nell'albergo al momento della requisizione. 29 gennaio 1944. È stato riferito che un certo allarme si sarebbe verificato tra alcuni elementi della cittadinanza che evidentemente non sono apposto con la coscienza, secondo i quali si sarebbero ricostituite le vecchie squadre d'azione del fascio di combattimento. Sta di fatto che i fascisti repubblicani si sono riuniti per stabilire la linea di condotta da tenere di fronte ad eventuali aggressioni avversarie ed hanno stabilito che nessun atto di violenza sarà consumato verso chiunque. Però, se i fascisti repubblicani dovessero essere aggrediti, le rappresaie saranno nella proporzione da 1 a 10. L'azione repubblicana. 31 gennaio 1944. Il commissario prefettizio del comune di Macerata ordina 1. La compilazione di una seconda anagrafe annonaria in esecuzione di quanto disposto dal Ministero Agricoltura e Foreste. 2. La intestazione e distribuzione delle tessere per i tabacchi. 7.000 carte circa. 3. La compilazione dei nuovi fogli di distribuzione delle carte annonarie in sostituzione degli attuali esauriti. 4. Il lavoro preparatorio per la intestazione e distribuzione delle carte annonarie individuali per il pane, genere di minestra, zucchero, grassi, sapone e genere alimentari vari, complessivamente 60.000 carte circa, valevoli nel quale i mestri marzo-giugno 1944. 16 febbraio 1944. Prefettura di Macerata. Avviso. La sera del 15 febbraio è stato compiuto un attacco terroristico contro la sede del comando militare tedesco di questa città con lancio di una bomba. Per punizione detto comando ha disposto che il coprifuoco abbia inizio alle 18.30 e termini alle 6. Colori quali saranno sospesi a circolare durante l'ora del coprifuoco senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comando di piazza tedesco, saranno puniti dalle autorità tedesche. Quest'ordine va in vigore oggi 16 corrente e durerà fino a nuova contraria disposizione. In conseguenza di quanto precede, gli uffici di esercizi pubblici sospenderanno ogni attività alle ore 18. Il capo della provincia, Ferrazzani. 18 marzo 1944. Attenzione! Ha 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 ha! Celebre istituto di informazioni segreto. Piazza Strambi. Notizie varie. Pronte e sicure. Informazioni celerissime. Previsioni quasi matematiche del come e quando finirà questa guerra. Secondo le più quotate trasmissioni di Radio Londra, Cairo, Bari, Libertà, America eccetera. Esclusa Radio Roma. Garanzia. Massima serietà e il tutto gratuito. Rivolgersi al maestro spirituale del seminario locale. Canonico Don Bianchini. L'azione repubblicana. 22 marzo 1944. Montalto. 27 giovani patrioti, sorpresi nel sonno da truppe tedesche e fasciste, vengono immediatamente passati per le armi. Solo uno di essi, ancorché ferito gravemente, riesce a scampare all'Eccidio. Lungo i sentieri per Vestignano cadono altri quattro patrioti. A Pian di Favo, Aldo Buscalferri, l'irriducibile combattente comunista, colpito a un ginocchio da una raffica di mitra, viene catturato e ucciso con una scarica al capo. 23 marzo 1944. Fucilato senza processo contro il muro di cinta del cimitero di Muccia da tedeschi e fascisti, il giovane comandante partigiano Achille Barilatti. Mamma adorata, quando riceverai la presente, sarai già straziata dal dolore. Mamma, muoio fucilato per la mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere, mamma. Il mio sangue non si verserà in vano e l'Italia sarà di nuovo grande. Da dita Marasli di Atene potrei avere i particolari dei miei ultimi giorni. Addio mamma, addio papà, addio Marisa e tutti i miei cari. Muoio per l'Italia. Ricordatevi della donna di qui sopra che ho tanto amato. Ci rivedremo nell'agrore a Celeste. Viva l'Italia libera. Achille. 24 aprile 1944. Con la deribera del capo della provincia, recante la data odierna, il professor Domenico Fares, titolare di Lettre Italiane e Latine al liceo classico Giacomo Leopardi, è stato chiamato a sostituire al comune il commissario prefettissimo dottor Carmine Ferrigno. L'insediamento del nuovo commissario avrà luogo domani 25 aprile. 13 maggio 1944. Gioventù d'Italia. La legione italiana chiama raccolta i migliori. Occorrono onore, coraggio, fedeltà. Le brigate d'assaldo, vendetta, patria, Italia saranno inquadrate con i più moderni e potenti armamenti e i migliori istruttori. Vitto e stipendi delle forze armate germaniche. Arruolatevi. 6 giugno 1944. Domani avranno inizio presso la nostra università gli esami della sessione estiva. La commissione esaminatrice si riunirà nei locali di istituto tecnico agrario. Nazione repubblicana. 15 giugno 1944. Premesso che in seguito all'allontanamento improvviso per ignota destinazione del commissario prefettizio professor Domenico Fares e del vice commissario dottor Pallotta Carlo con decreto prefettizio in data 15 giugno 1944 veniva nominato commissario prefettizio del comune di Macerata il signor Ventriglia Gennaro. Questi oggi si è presentato nella sede comunale ed ha preso possesso dell'ufficio. Presente il segretario capo dottor cavalier Diomede Simonetti il quale ha l'incarico di redigere il presente verbale. 30 giugno 1944. Partigiani del gruppo bande Nicolò, soldati della Nembo e truppe polacche dell'ottava armata dell'esercito di liberazione alleato entrano in Macerata, ormai abbandonata dai tedeschi in fuga. Festose accoglienze da parte della popolazione. 1 luglio 1944. A di primo del mese di luglio nella civica residenza, premesso che in seguito all'entrata in Macerata delle truppe alleate avvenuto il 30 giugno il comando militare alleato designava il signor colonnello Antonio Alfieri a disimpegnare temporaneamente le funzioni di sindaco. Oggi, primo luglio, si è costituito il predetto Alfieri per prendere possesso dell'ufficio con l'assistenza del segretario capo dottor cavalier Simonetti Diomede, incaricato di redigere il presente verbale. Il signor colonnello Alfieri, pertanto, si insedia oggi nell'ufficio. 5 luglio 1944. L'anno 1944 a di 5 del mese di luglio nella civica residenza, premesso che a seguito della entrata in Macerata delle truppe alleate avvenute il 30 giugno 1944, il comitato provinciale di liberazione nominava l'amministrazione comunale, nomina ratificata dal comando militare alleato. Nelle persone dei signori, Lori, ufficiale professor Ferdinando con le funzioni di sindaco, Perugini, cavaliere ragioniere Otello, assessore e vice sindaco, Maghella, ragioniere Concetto, Carletti, ragioniere Galdino, Mariani Angelo, assessori. Di conseguenza, decade all'incarico di sindaco precedentemente conferito il comando inter alleato, il colonnello Alfieri Antonio. 19 luglio 1944. Presentiamo ai nostri corregionali la Gazzetta delle Marche. Non si tratta di un giornale politico, ma di un notiziario che porterà ai lettori l'eco degli avvenimenti su tutti i fronti di guerra, dove gli eserciti alleati si battono con l'eroismo per distruggere l'oppressione nazista e restituire a tutti i popoli quella libertà tanto desiderata. E' inutile dire che le notizie, sia di carattere militare che di altra natura, saranno obiettivamente esaminate ed imparzialmente pubblicate, non proponendosi la Gazzetta delle Marche alcuna opera di propaganda politica. 22 luglio 1944. La città di Ancona è stata conquistata dopo accanita lotta che si è svolta per scardinare le difese esterne che poggiavano a ovest su Filottrano e a sud-ovest nelle immediate vicinanze di Osimo. La conquista di queste due località, tenacemente difese dalle truppe naziste, ha permesso alle valorose truppe polacche di sfondare la linea tenuta dalle orde teutoniche e il successivo accerchiamento della città anconetana. Grazie a questa mirabile manovra delle truppe liberatrici, la più grande città delle Marche non ha sofferto ulteriori danni perché nell'interno della città, salvo qualche sporadico ed insignificante episodio, non si sono avuti scontri. La Gazzetta delle Marche. 2 agosto 1944. È stato nominato prefetto il dottor Aurelio Ponte. Il prefetto ha già preso possesso del suo ufficio. Abbiamo chiesto a sua eminenza quando saranno assegnate le altre cariche nell'amministrazione della provincia e il dottor Ponte ci ha dichiarato che addiverrà subito alla nomina, con regolare decreto, della deputazione provinciale, nonché delle giunte comunali, tenendo nel giusto e doveroso conto le diverse correnti politiche del luogo. Gazzetta delle Marche. 18 settembre 1944. Seduta plenaria del Comitato Provinciale di Liberazione. Avendo manifestato il professor Lory in intenzione di rimettersi all'incarico, i rappresentanti dei partiti liberale, d'azione, socialista e comunista, così vorrebbero formare la nuova giunta municipale. Avvocato Virginio Borioni, sindaco. Ragionier Otello Perucini, vice sindaco. Ragionier Concetto Machella, dottor Sisto Raccosta, avvocato Francesco Lampa, assessori. Signor Mario Pallotta, professor Dante Cecchi, assessori supplenti. A progetto si oppone il Partito della Democrazia Cristiana. 21 settembre 1944. La riunione del Partito Comunista, che doveva avere luogo allo sferisterio il 17 corrente, è stata rimandata data da destinarsi per la mancanza dell'oratore ufficiale, onorevole Molinelli, sottosegretario all'industria, giunto con notevole ritardo nella nostra città. 9 ottobre 1944. A seguito del decreto prefettizio in data 5 ottobre 1944, numero 278, col quale viene ricostituita l'amministrazione comunale per le dimissioni rassegnate dal sindaco e da alcuni membri della giunta precedente in carica, si sono personalmente costituiti i signori Iotello Perugini, sindaco, Torello Campetti, Pietro Capitani, Francesco Lampa, Augusto Pantanetti, assessori effettivi, Filippo Paolo Rossi, Dante Cecchi, assessori supplenti. 12 ottobre 1944. Su alcune bancarelle e in qualche spaccio sono in vendita la mette da barba di pessima qualità alla sbalorditiva cifra di lire 90 al pacchetto. Se si pensa che tali lamette sono state acquistate dagli attuali rivenditori a suo tempo per 3 o 4 lire e che nella stessa Roma, il che è tutto dire, non vengono vendute più di 40 lire, viene fatto di sentirsi accapponare la pelle e tremare le mani. 14 dicembre 1922. È stato annunciato che nella nostra città verrà presto distribuito un po' di carbone e legna. Facciamo voti perché almeno per le feste nazalizie si cerchi in ogni modo di non mettere in vendita quella solita polvere di carbone bagnata che molti, pur nel bisogno, preferiscono spesso non acquistare. 24 dicembre 1944. Esce il primo numero di Il Lavoratore, settimanale della Federazione Provinciale Comunista di Macerata. 27 dicembre 1944. A Brussasco, nel lontano Piemonte, in uno sconto a fuoco con le Brigate Nere, cade il comunista Mario Morbiducci, vicecomandante dell'undicesima Brigata che è rival di Cuneo. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico. Arte, spettacolo, pubblicità in macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Corubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vediamo appuntamento al prossimo episodio.